Io ringrazio questa emittente di questo spazio, parlare della Fonderia Pisano è un motivo importante perché vede le sorti di centinaia di lavoratori. Il dato drammatico, al di là della vicenda in sé, è un altro. La normativa ha attribuito all'ASI, che è un ente che raccoglie al proprio interno un'area di sviluppo industriale, un ente che amministra i vari sviluppi industriali, ha attribuito delle competenze specifiche. Oggi vedere che non si riesce a trovare un sito per un'attività produttiva, significa che l'ASI ha seriamente dei problemi. Significa che non riesce a controllare un fenomeno fondamentale che è di sviluppo. Tenga presente che l'ASI ha una serie di strutture operative in tutta la provincia. Le aree industriali di Buccino, Palomonte, la stessa Battipaglia, tutte le aree industriali della nostra provincia sono governate dall'ASI. L'ASI ha una sua struttura operativa, il CGS, Consorzio Gestione Servizi, che occupa 59 lavoratori ed è una struttura che dovrebbe difendere il territorio. Quindi una struttura dove controlla il grado, il funzionamento degli impianti di depurazione. Per cui se questa struttura è efficiente, è capace, diventa secondario dove collocare, allocare un'azienda, se l'azienda è costruita a norma, se gli impianti scaricano a norma. Il dato reale in questo momento è che la vicenda Fonderia Pisano è un campanello d'allarme di una situazione ben grave, cioè che l'ASI non è in grado di gestire questo processo. Occorre che la regione Campania, che è il socio principale dell'ASI, decida cosa fare di questi emi. È impensabile che noi abbiamo a Buccino, Palomonte, le aree costruite con la 219, delle vere e proprie cattedrali nel deserto. È impensabile che il Consorzio di Gestione Servizi non funzioni al massimo. Un ente realizzato nel 1980, dopo l'insediamento nelle aree industriali post terremoto, quindi a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, che oggi non ha fatto nessun processo di ristrutturazione, se non quello di ridurre gli addetti. Se invece quest'ente funzionasse, insediare un'attività produttiva importante, trainante, economicamente valida, come quello della Fonderia Pisano, sarebbe un banale attività. Da un lato garantiremmo centinaia di lavoratori e daremmo la possibilità di sviluppo. Dall'altro lato, un ente che costa all'erario fondi importanti, come l'ASI, svolgerebbe la sua funzione. Quando io leggo sui giornali il rimpiazzo, il rimpallo di dove deve essere allocata le Fonderie Pisano, oggettivamente ci rendiamo conto che qualcuno al tavolo non fa il proprio gioco, non svolge il suo ruolo. E io, con forza, contrariamente alle altre organizzazioni sindacali, io dico che in questo momento ci sono due responsabilità precise. Una è l'ASI, che è una struttura operativa della Regione Campania. E dall'altro lato la Regione Campania che deve intervenire con provvedimenti radicali qualora l'ASI non riesca a trovare una giusta soluzione. Ma sicuramente Salerno, la sua provincia, non può perdere posti di lavoro.